Ciao, ciao a tutti, buongiorno, bentrovati e bentornati sul canale. Io sono Eli, Eli Valsecchi, e oggi parleremo di libri, tra un accompagnamento e un altro del nostro seminarista che si chiama Luca, un'esperienza davvero bellissima, bellissima di condivisione, di familiarità, di... non so come dire, anche di fede se uno ci crede, ma non è indispensabile, comunque è un'esperienza davvero bellissima che poi vi racconterò. Allora, ho tanti tag a cui rispondere e mi piace questa cosa dei tag perché mi dà la possibilità innanzitutto di raccontare qualcosa di me in maniera un po' più intima, approfondita, di farmi conoscere un po' di più al di là dei cosmetici, al di là dei miei hobby, della maglia, dei libri e di tutto quanto. E poi perché mi piace comunque la possibilità di conoscere nuove persone, nuovi canali. Oggi rispondo a un tag di Anna, in terrazza con l'Anna, che è un'amica che ho conosciuto l'anno scorso, due anni fa, nel tempo in cui si era creata un po' la community della maglia. E lei in passione, e lei rifaccio, e non taglio nulla, ok? E lei come passione in comune con me, oltre alla maglia, ha la passione dei libri. E io oggi ho detto, ma perché prendiamo la palla al balzo? Devo raccontare tre libri, tra l'altro, che ho dovuto restituire in biblioteca perché la scadenza ormai era terminata, ma che ho letto e che mi sono piaciuti tanto. Prendo la palla al balzo e rispondo anche alle domande del tag. Allora, bene, in questa mezz'oretta di tempo che ho a disposizione, prima di fare altro, vi racconto i libri che ho letto quest'estate. Ho dovuto stampare le fotocopie della copertina perché ho dovuto restituirli, la scadenza era terminata, non potevo prolungare avendoli già a finire di leggere e quindi vi li racconto. Allora, il primo libro che vi consiglio, che mi è piaciuto davvero tantissimo è questo. La copertina è questa, una copertina molto leggera, molto aperta, che regala una sensazione di libertà ed è un libro di Caterina Soffici, lontano dalla vetta, di donne felici e capre ribelli. Perché ho scelto questo libro? Perché io sono la mamma di un contadino. Pietro, come in tanti sapete, sta facendo l'università della montagna tra una capra, una gallina, una pecora, un coniglio, sta facendo anche part time il muratore. Tra tutte queste cose ogni tanto ci regala un esame. E proprio in questa esperienza con Luca, che è il seminarista che stiamo ospitando e che ci ha detto che le vie del Signore sono infinite, mai, come questa volta, posso dire hai ragione. Le vie del Signore sono infinite e speriamo che lui arrivi alla laurea in tempi abbastanza ragionevoli. Comunque, da mamma di un contadino mi sono detta, che carino questo titolo, di donne felici e capre ribelli. Ora vi leggo qual è, diciamo, quello che c'è scritto nella prima copertina. C'è chi va in montagna in cerca del midollo della vita per sfuggire ai propri fantasmi e alle ansie metropolitane, e chi, come l'autrice, ci si trova per caso, sognando il caldo, il mare e le spiagge del Mediterraneo, ma un accadimento, che sarebbe il Covid, l'ha portata in una baita sulle Alpi a 1700 metri, in un borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa. Lì ha scoperto, grazie a un grege di caprette, un branco di lupi, un'aquila e alcuni personaggi che sembrano usciti da una favola, che si può condurre una vita più semplice e trovare, forse, la felicità nelle piccole cose. Basta poco per cambiare ritmo e vivere come i cittadini hanno dimenticato. Camminare, respirare, spaccare la legna, spalare la neve, fare yoga o stare semplicemente seduti su un masso caldo di sole. Lì ha scoperto che non è necessario correre per raggiungere la cima, perché il vero scopo non è arrivare sempre più in alto, ma riappropriarsi di un tempo antico e dilatato. Più facile se lo fai con un cielo blu sopra la testa e dentro un cuore. Blu come sono le montagne in lontananza, blu come le sfumature dell'acqua del mare, il colore della vastità, dell'incontenibile e del desiderio. Un diario di montagna che è anche e soprattutto molto altro, uno sguardo intelligente, poetico, dolce, ironico e disincantato. Un libro che mi è piaciuto tantissimo. Avrei voluto essere nei panni della scrittrice. Lei racconta questa avventura, io la descrivo così, che gli è successa nel periodo del covid, insomma, e quindi per problemi suoi, che lei non specifica, si è ritrovata in questa baita a 1700 metri, in un borgo sotto il ghiacciaio del Monte Rosa. Cosa racconta in questo... non è un romanzo, in questo libro autobiografico, racconta la sua esperienza tra i monti, tra i sentieri, tra le erbe selvatiche, tra i personaggi di questo borgo che, come sappiamo, i personaggi dei borghi montani sono un po' resti a confidarsi, sembrano quasi antipatici, anche se non lo sono, no? E lì riscopre un nuovo tipo di vita, riscopre un nuovo tipo di amare la vita, di apprezzare le cose che ci vengono regalate, regalate ogni giorno. Io non voglio fare spoiler, sapete tranquillamente, come vi racconto sempre, che non vi faccio mai una recensione del libro, perché la recensione rovina la lettura del libro. Io vi dico il mio pensiero, questo è un libro che secondo me ci regala un senso di serenità, di sollievo, di apertura, cioè quando lo leggete voi vi trovate in questo cielo azzurro, aperto, un cielo infinito, un cielo aperto a tutto, un cielo che ti fa respirare, aria di montagna, aria frizzante, aria fredda, una sensazione di pace, di meraviglia, di dire forse magari ce la posso fare anch'io. È vero, io non abbandonerò mai la mia casa in città, a meno che non ci sia un bisogno, perché qui c'è il mio lavoro, c'è la mia famiglia, c'è mia mamma, ci sono tante cose che mi legano qui, ma mi piacerebbe davvero vivere un momento di distacco, da un mondo magari troppo preoccupato dei tempi, delle scadenze di quello che dobbiamo fare, di come lo dobbiamo fare, dobbiamo essere sempre al top, dobbiamo essere sempre migliori, dobbiamo essere sempre bravi, dobbiamo dare il massimo sul lavoro, nella vita quotidiana, nella nostra organizzazione di famiglia. Ecco, leggere questo libro mi ha fatto capire che si può anche essere diversi, si può prendere le cose con più calma, si possono prendere le cose con dei tempi diversi, con dei ritmi diversi, guardare all'altro, al vicino di casa, al vicino di baita, che poi non è così tanto vicino, perché magari è distante, in maniera diversa. Un libro che mi ha fatto respirare, ah, meno male, c'è qualcosa di diverso, c'è la possibilità di qualcosa di diverso. Un libro che io vi consiglio, anche se voi non siete la mamma di un contadino, come lo sono io. Un libro veramente bello, piacevole, che ti fa apprezzare la natura, che ti fa apprezzare un tipo di vita diverso, anche se è nei nostri desideri, ma non lo possiamo fare. Un libro che ti dà un'apertura mentale, un'apertura di cuore, un respiro, un'aria pulita, ti fa volare in alto. Ecco, un libro che mi è piaciuto tantissimo. Altro libro, che però all'inizio ho fatto molta, molta, molta fatica ad iniziare, è questo. L'ultima ricamatrice di Elena Pigozzi. Allora, un libro per me è scritto con un linguaggio all'inizio diverso. Poi, e non l'ho amato subito, e attenzione, ho fatto un po' fatica, ho cominciato ad amarlo dopo il terzo e il quarto capitolo. Perché il linguaggio con cui è scritto questo libro è un linguaggio poetico, al quale io non sono abituata. Io sono abituata ad un linguaggio narrativo, che ti racconta come vanno le cose, che ti racconta la situazione. Qui, Elena Pigozzi è una maestra, cioè è una poetessa. Secondo me, i suoi libri sono delle poesie. Un libro meraviglioso, tanto che, dopo aver letto questo, io ho letto, ho comprato l'ultimo suo libro, che è uscito, non ricordo se qualche mese fa l'avevo addirittura prenotato, perché non era ancora uscito. Vi leggo brevemente. Elena Pigozzi, in questo romanzo, ci fa vivere cento anni di storia in un battito di ciglia. È vero. A volte, vento leggero e luminoso, altre cupo e foriero di sventura. Tante vite si intrecciano in queste righe, tanti amori, ma soprattutto l'amore per la vita stessa e per un'arte millenaria, che sono la vera eredità dell'ultima ricamatrice. Ovviamente, dal titolo potete capire che si parla di ricamo. Di una ricamatrice, che abita in una casa ai confini del bosco, e lei, di lavoro, appunto, fa la ricamatrice. Appoggiata ai bordi del bosco, sulla via che dal paese va verso le montagne, c'è una piccola casa solitaria. È qui che vivono le ricamatrici. Ora è rimasta Eufrasia a praticare l'arte di famiglia. Tesse, cuce, ricama, leggendo in ogni persona che le si rivolge i desideri più inconsci. Accanto a lei, come prima la bisnonna, alla nonna e alla madre, da sempre, il telaio di ciliegio, rocchetti, stoffe, spole e spilli. Eufrasia ha 70 anni e ha quasi smesso di lavorare. Le mani curvate dall'artrite e la modernità in cui tutto è fatto in fretta, le avevano fatto pensare di non servire più a nessuno. È in quel momento che arriva Filomena, una ragazza giovane, con il riso negli occhi, oltre che sulle labbra, che le chiede di prepararle il corredo e di insegnarle a ricamare. Eccola, l'ultima occasione di fare ciò che Eufrasia più ama, rendere felice qualcuno, raccontargli la vita che verrà intrecciando trama e ordito. Le parole che ha risparmiato per tutta l'esistenza, ora sgorgano come fiumi in primavera. Racconta di una giovane vedova di guerra, gentile ed esperta nel taglio e nel cucito, di una splendida e coraggiosa ragazza, troppo bella per non attirare le mallingue del paese, di un amore delicato come il filo di lino e tanto sfortunato, e di un ricamo tessuto di generazioni, in cui ognuna di loro ha scritto un pezzo della propria esistenza, una scintilla luminosa nel buio del mondo. Un libro che mi ha fatto piangere, mi ha fatto sorridere, non mi ha mai fatto ridere. Un libro che è una poesia dalla prima parola all'ultima parola. Un libro che racconta questo intreccio di fili, di vite legate al ricamo, legate alla sartoria, legate ad una famiglia che è formata da sole donne. Un libro che racconta il dolore, ma racconta anche la forza, che è in queste mani che ricavano. Un libro che racconta di famiglia, e che poi alla fine si scoprirà perché. Io ve lo consiglio, è un libro meraviglioso, ricco di emozione, ricco di sentimenti, ricco di nostalgia, ricco di amore, bellissimo. Cioè, veramente, io l'ho apprezzato da un certo punto in poi, ma poi mi è piaciuto così tanto lo stile così diverso in cui scrive Elena Pigozzi, che io ho fatto fatica ad apprezzare, ma uno stile che mi ha fatto andare ad acquistare poi il libro successivo uscito a questo. Quindi, un libro davvero, se volete mettervi alla prova con una prosa che non è la vostra, che non è un modo di raccontare solito, ma molto diverso, molto poetico, molto profondo, molto emozionante, che parte dal cuore, io, questo libro, davvero, ve lo consiglio. Un libro meraviglioso, che mi è piaciuto tantissimo e che consiglio davvero a tutti voi, anche se volete, a tutti voi e a tutti voi, se volete approcciarvi a uno stile narrativo un po' diverso dal solito al quale magari siete abituati. Ultimo libro, sono solo tre, quelli che ho restituito in biblioteca, gli altri, vi li dirò in un prossimo video, è questo. Lo scarabeo della signorina Benson di Rachel Joyce. Tra l'altro, questa copertina mi ricorda molto il libro di un'altra scrittrice di cui ora non ricordo il nome e io pensavo fosse un libro simpatico, leggero, non so come dire, che raccontasse la vita di questa insegnante che ad un certo punto lascia l'insegnamento e va ad inseguire i suoi sogni. Apparentemente è così. La protagonista è proprio Marjorie Benson, un'insegnante di economia domestica, 46enne, che in un momento di lucidità o forse potremmo dire in un momento di follia, abbandona il suo lavoro senza una prospettiva e parte per il viaggio dei suoi sogni. Dove va? In Nuova Caledonia alla ricerca di un mitologico coleottero, lo scarabeo fiore dorato dagli ali morbide. Certo, una signora non può partire da sola e così la mattina dopo mette un annuncio sul Times, cercasi assistente francofono o francofona per spedizione all'altro capo del mondo. Tutto spesato. Enid Pretti nel suo attillato abito fucsia e con la sua parlantina sfrenata non è la compagna che Marjorie aveva in mente ma è l'unica disposta a seguirla in questa improbabile avventura. Due donne molto diverse ma molto diverse davvero davvero che poi scoprirete nelle pagine di questo romanzo due donne agli antipodi una robusta con dei vestiti quasi molto maschili un atteggiamento un po' grottesco l'altra molto femminile molto elegante con i tacchi a spiglio che va nella foresta vestita con la minigonna e con una magliettina attillata no? Ecco per dirvi due persone che sembrano apparentemente molto diverse ma che i casi della vita fanno incontrare in un connubio di sentimenti in un connubio di affetto di amicizia che le renderà amiche amiche della vita amiche profonde si confideranno i loro segreti si confideranno i loro problemi è un romanzo drammatico purtroppo è un romanzo drammatico che finisce in un certo modo che tu non vorresti mai finisse così ma che però ha anche un risvolto piacevole un risvolto ricco di speranza dicevo due donne molto diverse ma che sono pronte a qualsiasi cosa per ottenere ciò che vogliono sia l'una che l'altra che rischieranno tutto infrangeranno anche le regole e ne infrangono tantissime diventano quasi quasi delle fuori legge per scoprire la parte migliore di se stesse un romanzo meraviglioso delle seconde possibilità la vera amicizia il coraggio e la fragilità brillante commuovente e pieno di svolte inaspettate ecco non aspettatevi un romanzo tranquillo avrete in ogni pagina che voi leggerete un'ansia pazzesca per quello che succederà dopo voi penserete oddio no non può andare così no non può succedere così no marjorie non può fare quello no oh mamma mia ma allora cosa succede cosa succederà a denit cioè è tutto un romanzo davvero che ti tiene legato ad ogni pagina ad ogni avventura ad ogni problema che a loro succede un romanzo che poi avrà un finale se vogliamo drammatico di questa amicizia ma un romanzo che eleva all'ennesima potenza il rispetto di due donne completamente diverse due donne che hanno due vite che sono veramente diverse hanno dei vissuti che sembrerebbero quasi incomprensibili l'una all'altra ma che grazie all'affetto ad una determinazione e anche ad un lavoro di accettazione l'una dell'altra riusciranno a diventare i migliori amiche per la vita è un romanzo commuovente io ho pianto alla fine ho pianto ma vi consiglio assolutamente di leggerlo perché è un romanzo che vale la pena conoscere se già non lo conoscete ed ora dopo questi tre libri che vi ho fatto vedere in fotocopia perché ovviamente li dovevo restituire alla biblioteca alla mia biblioteca di Lecco rispondo al tag di Anna in terrazza con l'Anna che mi ha taggato questa cosa mi piace molto dei tag ne ho tanti a cui rispondere vi chiedo scusa se non ho ancora risposto ma il tempo sapete è quello che è sono ricominciate tutte le attività e io devo un attimo incastrarmi tra una cosa e quell'altra adesso appunto un attimino di tempo perché Luca il seminarista se ne è andato a fare una sua attività quindi ho un attimino di tempo e mi piace anche l'idea che mi possiate conoscere un po' meglio per come sono per quello che leggo per quello che faccio oltre ai video che vi fanno vedere quelle che sono le mie passioni magari anche in maniera un po' più approfondita allora la prima domanda è con che frequenza vai nella biblioteca comunale allora devo dire in questi anni con pochissima frequenza quando ero giovane la frequentavo molto di più non c'era il prestito interbibliotecario legato al computer e quindi per andare a prendere un libro dovevo recarmi in biblioteca adesso con la comodità del sito che mi dà la possibilità di prenotare i vari libri in tutto il circuito interbibliotecario della provincia di Letco ci vado molto meno ci sono ritornata ultimamente per andare a ritirare i libri che avevo prenotato e perché mi sono iscritta a un gruppo di lettura ma questo farà parte della seconda parte di questo video che vi girerò nei prossimi giorni quindi con che frequenza vai nella biblioteca comunale direi una o due volte al mese sei una di quelle persone che prende in prestito solo i libri che sa di poter leggere in un determinato lasso di tempo o ne prendi troppi rischiando di riconsegnarli non letti sono la seconda persona io non mi fermo ai libri che potrei leggere ma vado oltre ai libri che vorrei leggere e che poi probabilmente non leggerò li prendo li annuso li guardo li scelgo guardo poi le varie indicazioni dei gruppi consigliato dai giovani consigliato dal gruppo di lettura consigliato da e quindi mi faccio prendere da questo amore incondizionato che ho per la lettura per le varie storie per i vari generi e ne prendo molti di più di quelli che potrei leggere assolutamente sì terza domanda quanti anni avevi quando hai avuto la tua prima tessera della biblioteca gli anni precisi non ricordo ricordo che ero alle medie perché mia mamma e mio papà purtroppo non hanno mai avuto il culto della lettura e quindi alle elementari non ci potevo andare da sola alle medie con le mie compagni andavamo in biblioteca a studiare andavamo in biblioteca per delle ricerche non c'era internet non c'era google non si trovava nulla non c'era neanche il computer almeno io non lo avevo l'ho avuto quando mi sono sposata quindi 25 anni fa e quindi per fare le ricerche di tecnologia di scienze di italiano antologia si andava in biblioteca era molto frequentata dai ragazzi delle medie delle superiori proprio per questa tipologia di lavoro e quindi penso di aver fatto la mia prima tessera bibliotecaria in prima media quando i professori delle medie hanno cominciato a appunto a dare come compito delle ricerche io non avevo il materiale a casa e quindi andavo in biblioteca per cercare notizie su quelle ricerche che dovevo fare vai in biblioteca cercando un libro in particolare o prendi qualsiasi cosa attire la tua attenzione non vado per cercare un libro in particolare raramente ci vado per cercare un libro in particolare io vado in biblioteca per il gusto di camminare tra gli scaffali ricchi di libri a me piace passeggiare poi magari esco generalmente non mi capita mai senza neanche un libro ma a me piace passeggiare guardare le copertine entrare nel locale dove ci sono i libri per bambini e guardare la grafica cioè hanno di quei di quelle copertine di quelle ci sono di quei grafici che curano i libri per bambini che mi incantano a me piace andare in biblioteca per guardare per far sì che i miei occhi si riempiano di bellezza se poi trovo un libro che mi piace che mi interessa che mi stuzzica lo prendo ma posso anche uscire senza nulla l'importante è che i miei occhi vedano vedano usi la biblioteca solo per i libri o prendi in prestito altro tipo i dvd uso la biblioteca principalmente per i libri quando i miei figli erano piccoli prendevo tantissimi dvd dei cartoni animati della disney o di altre tipologie ma ultimamente in questi ultimi anni ci vado soltanto ed esclusivamente per i libri in quale sezione cerchi la maggior parte dei libri in tutte le sezioni tranne che il fantasy io come vi ho già detto in altri video non riesco ad apprezzare il fantasy l'unico tra virgolette l'unica saga fantasy che io ho letto è stato Harry Potter e fin lì ci sono arrivata per il resto mi sembrano incomprensibili faccio molta molta fatica a dividermi tra il reale il fantasy i mondi diversi poi non mi ricordo poi devo ritornare a leggere quindi è un genere che io non prediligo non mi piace e non scelgo a meno che ci sia veramente un libro fantasy di cui ho sentito parlare bene di cui mi hanno raccontato di cui mi sono innamorata di cui vorrei conoscere ma altrimenti io vado in tutti in tutti gli scaffali narrativa saggi romanzi libri per bambini young adult si dice così il fantasy lo scanso non ci vado proprio mai qual è la cosa che preferisci dell'utilizzo della biblioteca allora devo dire una cosa da qualche anno finalmente anche la biblioteca di Lecco partecipa al prestito interbibliotecario e quindi io mi avvalgo di questo sistema che secondo me è veramente meraviglioso che dà la possibilità a tutte le persone iscritte in biblioteca della provincia di Lecco di poter usufruire di tutti i libri messi a catalogo e credetemi il catalogo è enorme vi avevo già detto ci sono gli ultimi titoli poi magari mi prenoto passano 3-4 mesi ora che io riesca a leggere il libro che ho che ho prenotato ma non mi interessa cioè la possibilità di andare in biblioteca e comunque di usufruire di questo servizio è quella di poter avere un catalogo quasi infinito di libri sul quale poter scegliere e questa cosa mi piace molto io non guardo le ultime uscite i libri consigliati più di tanto io vado sulla copertina voi lo sapete a me piacciono le copertine mi piacciono i disegni mi piacciono le fotografie quello che mi trasmette in base a quello che mi trasmette la copertina allora leggo la trama e allora scelgo il libro generalmente funziona così fortunatamente adesso la biblioteca di Lecco è entrata nel circuito interbibliotecario quindi io posso andare a ritirare i libri che prenoto che posso prenotare quasi 10 libri se non ricordo male e quindi poi vado in biblioteca sono lì guardo ne prendo degli altri guardo i libri per i ragazzi guardo le copertine guardo che cosa consigliano faccio le fotografie mi segno i libri che voglio leggere a me piace che ci sia la possibilità in biblioteca che tutte le persone possano leggere perché non tutte le persone si possono permettere di comprare libri e parliamoci chiaramente alcuni libri sono veramente veramente cari 30 35 euro 29 per un libro per un romanzo che poi letto una volta rimane lì quindi io ultimamente compro pochissimi libri ne prenderò due all'anno il resto li prendo tutti in presto dalla biblioteca perché perché c'è la possibilità di avere veramente un catalogo molto variegato molto ricco noi siamo fortunati abbiamo quasi in ogni paese confinante con l'eco una biblioteca toglierei il quasi sicuramente quindi ci saranno una sessantina settantina vorrei anche esagerare di biblioteche che fanno parte di questo circuito e quindi capite benissimo che non avendo più spazio in casa perché tra stoffe perline cosmesi cucito macchine da cucire maglia aghi libri io non ho più uno spazio nella mia camera hobby è pienissima e quindi ovviamente mi avvalgo di questo servizio e ne sono veramente contenta mi piace anche l'idea di poter prendere un libro che è già passato in mani di qualcun altro che è stato letto da una persona diversa da me che abbia lasciato comunque un suo profumo nel libro sono un po' romantica ma queste cose mi piacciono tanto e niente spero di aver risposto a questo tag sui libri che mi è piaciuto molto grazie Anna per avermi taggato spero che così mi abbiate potuto conoscere abbiate potuto conoscere si dice sì forse sì un pochino meglio un pochino più in profondità taggo in questo video in questo tag dei libri Parvana Stefania che è un'amica che ho conosciuto da poco ma con la quale mi sono trovata subito in sintonia per tante cose per la creatività per i profumi per il modo di essere mi sento davvero molto vicina a lei e so che lei ama leggere e quindi io la taggo e poi taggo Valentina di Soavi Creazioni Home un'amica che è una creativa fa la maglia cuce fa dei ricami fa tante cose che sono in sintonia con quelle che faccio io ma so che legge che legge ecco io taggo queste due persone ma sentitevi liberi se vi piace questa tipologia di video di prendere questo tag e di condividerlo con il mondo intero perché la lettura come vi ho detto da sempre è il modo migliore per poter viaggiare rimanendo seduti su una poltrona e penso sia il modo l'unico modo al mondo che tutti ci possiamo concedere per poter viaggiare e quindi se vi piace questo tag prendetelo rubatelo usatelo condividetelo fatene quello che volete ma diteci cosa ne pensate dei libri e cosa ne pensate a questo punto del rapporto con la vostra biblioteca io vi ringrazio vi abbraccio se siete arrivati fino a qui siete dei fenomeni e come sempre vi do appuntamento al prossimo video ciao e buona giornata grazie a tutti